Come usare il segreto? Prima però ti ricordo che su tutti i miei canali YouTube Massimo Tramasco, crescita personale, felicità, benessere, monotostima e anche la possibilità di abbonarsi. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e selezioni, poi l'abbonamento che preferisci. Se non vedi i tastini abbonati con l'app del cellulare o con il computer. Ma veniamo al tema, come usare il segreto? Allora, il segreto è stato divulgato da The Secret, il famoso libro che ha, diciamo, in questi anni, abbastanza recenti, iniziato a parlare di legge d'attrazione. Ovviamente di legge d'attrazione ne parlava già Buddha 2500 anni fa, tutte le tradizioni esoteriche, diciamo millenarie, parlavano di legge d'attrazione. La legge d'attrazione, io credo, faccia parte sia una legge della fisica e fondamentalmente la fisica quantistica non ha formulato questa legge vera e propria, però diciamo che ci sono anche degli studi, e ho fatto anche un'intervista recente, per riuscire a capire come degli eventi, diciamo, delle particelle subatomiche, in particolar modo degli elettroni, possano essere, diciamo, manifestarsi anche nel macrocosmo. Il fenomeno dell'entanglement, ad esempio dell'entanglement quantistico, è proprio questo concetto, l'interazione tra due particelle rende, diciamo, crea una connessione molto forte, quello che accade su una si riverbera sull'altra. Istantaneamente è un effetto di non località, come se fossero un'unica particella. E noi, in realtà, come esseri umani, io credo, siamo collegati veramente con tutto l'universo. Tutto l'universo che effettivamente sembra enorme, diciamo così, ma in realtà io penso che l'universo che noi, che la fisica, che gli astrofisici hanno, stanno studiando sia una piccola parte, una frazione del grande universo, di cui non possiamo neanche avere un mimo di concezione. Però noi siamo parte di questo. È un po' come dire, la goccia fa parte del mare. Certo, la goccia può sentirsi, come dire, inutile, se vogliamo, però la goccia è parte del mare e quindi ha tutta la forza, tutta l'energia del mare ed è in collegamento con tutto il mare, se vogliamo. Una piccola goccia può avere un grande potere nel momento in cui acquisisce questa consapevolezza. Perché la vita di fatto è sicuramente un mistero, perché nessuno ha le chiavi per capire. Però possiamo renderci conto che noi possiamo avere questo grande potere di costruire dei mondi, di attrarre degli eventi. È un grande potere che noi abbiamo e dobbiamo imparare a svilupparlo, dobbiamo imparare a gestire, dobbiamo imparare a sviluppare e gestire questo grande potere che sta dentro di noi. Quindi se vogliamo raggiungere dei risultati, se vogliamo ottenere dei risultati, possiamo, come dire, in tutti i modi imparare a diventare, a essere qualcosa di diverso. Il vero segreto, io credo, della legge di attrazione sia proprio quello di poter far crescere dentro di sé, sviluppare dentro di noi ciò che vogliamo diventare. Cioè, veramente, se tu vuoi sviluppare, vuoi attrarre l'amore nella tua vita, inizia a vivere l'amore, a renderti conto. L'amore, ad esempio, è il contrario dell'ossessione all'autogratificazione. Persone che hanno un'ossessione all'autogratificazione, quindi troppo egocentrate su se stesse, non potranno mai e poi mai percepire l'amore, non potranno mai e poi mai vivere realmente l'amore. Perché questo non è compatibile. Ci sono delle non compatibilità, da un certo punto di vista. Noi dobbiamo imparare a sviluppare invece queste forme di compatibilità che ci possono dare qualche cosa. Questo è un punto importante, è un punto fondamentale. imparare a diventare ciò che vogliamo essere, diventare ciò che vogliamo attrarre, con distacco dal risultato. Perché purtroppo uno dice, ecco, vorrei dare amore ma non attiro l'amore, non riesco ad attirare l'amore di Tizio, di Caio, di Sempronio. Perché non riesco ad attirare l'amore di Tizio, di Caio, di Sempronio? È in quel momento lì che tu inizi a rimuginare, ha fatto questa domanda fatidica del perché, che non l'attirerai mai. Perché attirerai le tue paure nel momento in cui tu ti chiedi perché non attrai? Beh, non attraerai proprio per questo motivo, perché svilupperai proprio l'impossibilità di attrarre, l'impossibilità di coinvolgere, l'impossibilità di far innamorare. E questo è un punto importante, questo è un punto fondamentale. Devi invece imparare a mantenere il distacco del risultato, lasciare che le cose vadano, tutto scorre, tutto fluisce. L'importante è mantenere il distacco e sentirsi parte del flusso, sentirsi parte dell'universo. Nel momento in cui tu espandi veramente la tua coscienza e diventi parte di questo universo, esci fuori dalle tue prigioni, allora potrai attrarre, potrai. E poniti la domanda come? Come attrarre? Cosa fare? Ma non perché, perché non ottengo. Perché se tu entri e inizi a pensare in questo modo, purtroppo non riuscirai davvero a ottenere. Quindi come usare il segreto serve distacco dal risultato, come usare il segreto serve diventare parte dell'universo, sentirsi parte dell'universo, sentire la propria mente, la propria coscienza, espandersi. Puoi anche fare degli esercizi. Chiudi gli occhi e immagina di espanderti come un essere di luce in tutto l'universo e di attrarre tutto ciò che è in sintonia con te. Perché poi questo è quello che accade in modo nascosto, in modo subliminale. Ma devi farlo con piena consapevolezza di essere parte del tutto. Con piena consapevolezza di essere la goccia che fa parte del mare. È soltanto una goccia, ma è molto importante perché è parte di qualcosa di più grande. Bene, se questo video ti è piaciuto condividerlo con i tuoi amici, iscriviti a tutti i miei canali YouTube, Massimo Terramasco, crescita personale con Massimo Terramasco, felicità, benessere, amore, autostima e attivando la campanella, così gratuitamente ovviamente riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su Instagram e seguimi anche su TikTok.